Musica Turismo record in Campania, incubo legionella di Ischia, anche oggi folla gli imbarchi per isole e costiera, bilancio positivo per le località turistiche nel Salernitano. Napoli continua a fare il pieno grazie ai tesori d'arte, intanto paura sull'isola verde sequestrate le piscine di un hotel. Tragedia in Germania, muore bimba napoletana di 7 anni colpita alla testa in albergo da una statua di marmo. È la figlia dell'avvocato Trematerra, su Facebook il commovente messaggio di addio della mamma, sei e sarai sempre il nostro angelo amore della nostra vita. Vigorito, la burocrazia frena ancora le rinnovabili. In un'intervista al mattino il presidente di Confindustria Benevento mette a fuoco le problematiche che bloccano la realizzazione di impianti di energia pulita. Troppi 5 anni per un parere, serve una svolta. Voto Berlusconi in campo, candidato per atto d'amore. Il Cavaliere in collegamento con un'iniziativa elettorale avvietre sul mare e rilancia la sfida di Forza Italia. Bene le liste in campania, gli esclusi si impegnino. Da Avellino la critica di Cosimo Sibili a candidati non legati al territorio. Tamponamento sul raccordo, 5 feriti e traffico in tilta. Ancora un incidente sull'Avellino Salerno e successo all'altezza di Baronissi sulla corsia in direzione del capologo Irpino. Fortunatamente i feriti non sono gravi ma ci sono state pesanti ripercussioni per il traffico. Energia, 11.000 attività rischiano di chiudere. L'allarme è lanciato da Confesercenti Campania. Almeno 40.000 lavoratori potrebbero perdere il posto di lavoro. SOS rilanciato anche dal rappresentante di Mio Campania che da Benevento annuncia in molti non resisteranno. Erano i nostri titoli. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale di 8 Channel. In apertura il turismo è un'estate da record per la campania con tantissime presenze. Nell'ultimo weekend di agosto ancora tanta la voglia di vacanze dei visitatori ascoltati ai microfoni di 8 Channel. Intanto a Dischia è incubo. Legionella, sequestrate due jacuzzi in un hotel del centro. Sentiamo. Record di turisti in campania per un'estate che ha superato ogni aspettativa. Napoli è tornata reggina, così come le località di mare. Anche in questo ultimo weekend di agosto affollatissimi gli imbarchi ai traghetti per la costiera amalfitana. L'ultimo weekend. Andiamo a Minuri. Ci aspettano degli amici e passeremo la giornata lì. Ci siamo ritagliati in questo piccolo spazio, questa giornata, per divertirci ancora un po'. Siamo andati a Napoli e adesso facciamo un giro nella costiera amalfitana, però è veramente uno spettacolo bellissimo. Volevamo fare una vacanza in Italia per scoprire posti nuovi, non siamo mai stati al sud e quindi eravamo curiosi. Speriamo di, come dire, di finire quest'estate un po' travagliata. Quale migliore occasione se non fare un weekend a Capri, in una delle migliori, diciamo, medie turistiche d'Italia. È stata molto, molto faticosa e finalmente abbiamo raggiunto questo meritato relax e speriamo di godercelo appieno. Ci siamo potuti organizzare, abbiamo fatto tutto con l'argo anticipo e è andata. Le fa piacere che quest'anno ci siano tantissimi turisti, sono tornati turisti. Molto, molto, almeno porto un po' di soldi qua. Intanto a Ischia due piscine e jacuzzi di un albergo del centro sono state sequestrate per legionella. Il comune ha emesso il provvedimento dopo che l'arpa regionale a metà luglio aveva rilevato alta concentrazione del batterio in alcuni punti della rete idrica, della struttura. Nelle scorse settimane un 65enne di Cremone era morto per legionellosi, proprio pochi giorni dopo essere tornato da una vacanza sull'isola. In corso indagini da parte di Asle e magistratura. Tragedia in un albergo di Monaco di Baviera dove ha perso la vita Lavinia Trematerra. Una bambina napoletana di 7 anni, figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi. Nel tardo pomeriggio di ieri, mentre la bimba attraversava il salone centrale dell'albergo, è stata colpita da una statua di marmo. Il pronto intervento del papà purtroppo non è servito a salvare la piccola. Immediato il trasporto in ospedale vano. Purtroppo l'intervento dei medici tedeschi su Facebook. Il commovente messaggio di addio della mamma. Sai e sarai sempre il nostro angelo. Riposa in pace. Amore della nostra vita. Per il trasferimento della salma a Napoli occorrerà attendere l'autopsia della bimba. Il Covid colpisce meno nelle città dove ci sono più spazi verdi e meno inquinamento. È quanto emerso da una ricerca internazionale della Società Italiana di Medicina Ambientale con gli studiosi delle Università di Madrid e Benevento. Intanto in Campania altri 2.000 contagi, ma i ricoveri sono in calo. Il Covid colpisce meno nelle città dove è minore e l'inquinamento atmosferico e sono più sviluppati gli spazi verdi. È il risultato di una ricerca internazionale condotta dalla Società Italiana di Medicina Ambientale che ha visto coinvolti gli studiosi dell'Università Complotenze di Madrid e dell'Ateneo del Sannio. Al setaccio 10 città italiane, tra cui Napoli e 8 province spagnole. Al netto delle diverse dinamiche del contagio legate alla densità di popolazione, i risultati della ricerca mostrano come l'impatto del Covid sia stato inferiore nelle città che vantano una maggiore estensione del verde pubblico e minori concentrazioni di PM2.5. Intanto sono oltre 2.000 nuovi contagi in Campania a fronte di poco più di 11.000 test effettuati, tre i decessi nelle ultime 48 ore, più altri tre avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Buone notizie sul fronte ricoveri. In calo sia le terapie intensive che le degenze ordinarie. In vista dell'autunno, Vincenzo De Luca ha annunciato la riorganizzazione della rete dei pronto soccorso in Campania. Dovremmo avere problemi per il mese di ottobre per questioni di personale. Quindi stiamo lavorando ad una modifica organizzativa dei pronto soccorsi, vedere di separare i percorsi fra codici rossi e gli altri codici per evitare l'affollamento. Per il Nursind l'annuncio di De Luca arriva dopo gli esposti al Ministero della Salute da parte del sindacato che da tempo ha denunciato le condizioni difficilissime nelle quali si trovano ad operare i lavoratori del pronto soccorso. Il Nursind ha colto con favore l'impegno della Regione ma ha anche ricordato che ci sono molte criticità ancora da risolvere. Parliamo di energie rinnovabili in una intervista realizzata dal giornalista Nando Santo Anastaso per il quotidiano Il Mattino del presidente di Confindustria Benevento. L'avvocato Reste Vigorito mette a fuoco quelle che sono le problematiche che rallentano lo sviluppo di impianti di energia pulita. Vigorito ha segnalato che la burocrazia e i costi aumentati del 30% delle forniture dell'energia, ritardi politici e pregiudizi frenano questa prospettiva. Tra l'altro, ha ricordato nell'intervista Vigorito, sono necessari a volte anche 5 anni per avere un parere sull'impatto ambientale per rinnovare gli impianti. Il presidente di Confindustria Benevento ha espresso perplessità rispetto alle lungaggini burocratiche che si registrano a livello ministeriale nonostante i tempi ridotti per legge. Mi auguro, ha sottolineato Vigorito, che il nuovo governo dia priorità a questa esigenza. Aree interne, spopolamento e rilancio dell'economia al centro della via ufficiale della campagna elettorale di Forza Italia in Campania, Vietri e Benevento, le prime tappe del tour del coordinatore nazionale Tajani e del responsabile regionale Martusciello. La campagna non è un peso, ma deve essere sempre più protagonista nel paese. Questo lo slogan di Forza Italia che oggi, prima a Vietri, poi a Benevento, ha presentato ufficialmente i candidati alle prossime elezioni. In campo il commissario del partito in Campania, l'europarlamentare Fulvio Martusciello, a cui Berlusconi ha rimarcato la sua stima e i ringraziamenti per l'eccellente lavoro svolto in poche settimane. E il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Are interne e misure contro lo spopolamento al centro del programma. Noi non dobbiamo lasciare indietro nessuno, soprattutto le aree interne dove ci sono tanti giovani che hanno il diritto di poter rimanere a vivere, dove ci sono tante famiglie che hanno il diritto di poter continuare a lavorare senza essere costretti ad abbandonare perché mancano infrastrutture digitali, perché non ci sono opportunità. Punto sull'infrastruttura digitale, sulle infrastrutture anche legate ai trasporti che devono essere sviluppati per rendere più competitive le imprese che operano sul territorio. A Benevento Tajani ha presentato la candidatura alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Benevento Alto Casertano di Francesco Maria Rubano, giovane sindaco di Puglianello. Non solo perché è giovane, ma perché ha fatto bene e ha attuato anche da sindaco quella che è la politica di Forza Italia, a cominciare dalla riduzione della pressione fiscale. Da vietri telefonicamente Silvio Berlusconi ha rivolto invece un appello a coloro che sono stati dolorosamente esclusi dalle liste per via della riduzione del numero dei parlamentari. Da loro ha rimarcato il presidente Berlusconi, mi aspetto coerenza, e un generoso impegno nella campagna elettorale. E ancora per le elezioni si presentano i candidati dei partiti anche a Salerno e d'Avellino. L'amarezza di Cosimo Sibili ha sbagliato mettere in campo esponenti non legati al territorio. La campagna elettorale entra nel vivo in Campania. A Napoli iniziativa Lido Mappatella di Europa Verde per sensibilizzare sul tema della tutela del mare e delle spiagge. A Europa Verde, distribuito sulle spiagge, in particolare a Mappatella Beach, e delle borracce, dei raccoglitori per le deiezioni canine e dei portacicche. Perché noi vogliamo il nostro territorio pulito, con cittadini che ne soffriiscono al meglio, ma che lo rispettino. Ad Avellino il centrodestra schiera all'uninominale per Camera e Senato Gianfranco Rotondi e Giulia Cosenza. Ci sarà l'appoggio anche di Cosimo Sibilia, che però non nasconde un pizzico di delusione per la mancata ricandidatura. Posso ritenermi soddisfatto per quello che è stato. È ovvio però che con questa legge elettorale, con la riduzione dei parlamentari, il territorio viene ad essere penalizzato. Perché il territorio è diventato una sorta di scacchiera dove posizionare soggetti che anche in regioni piccole non hanno nulla a che vedere col territorio. Il PD Irpino risponde con Maurizio Petracca e Carlo Iannace. Probabilmente qualcuno ci potrà preannunciare una fine non decorosa, ma noi siamo convinti, lo abbiamo detto a più riprese, che le campagne elettorali si vivono, si combattono, l'esito non è scontato e le nostre candidature nei collegi uninominali rappresentano il nostro quid pluris. A Salerno invece è tempo di presentazione per i candidati 5 Stelle, tra cui Dario Vassallo. Il presidente Conte sarà a Pollica il prossimo 3 settembre per ricordare il fratello Angelo, il sindaco pescatore, ucciso nel 2010. Questo territorio ha sempre dato tanto al Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle ha sempre dato tanto a questo territorio. Ci sono persone illustre come Dario Vassallo, ovviamente i nostri candidati e parlamentari uscenti che hanno dato garanzia di stabilità e ovviamente di governo all'Italia intera. E' di 5 feriti il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sul raccordo Avellino-Salerno in direzione nord. Coinvolti anche un bambino di un anno ed uno di tre con i loro genitori, oltre all'autista di un'altra vettura. Quattro i veicoli che si sono scontrati, tra cui anche un mezzo dei vigili del fuoco, il tamponamento, per fortuna, senza gravi conseguenze, è avvenuto nei pressi dello svincolo di Baronissi. Inevitabili disagi per la circolazione, traffico in tilt per un paio di ore, complice anche l'intenso flusso di traffico per i rientri dalle vacanze. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Umanitas e gli agenti della Polizia Stradale di Eboli. Il caro Energia mette in ginocchio le aziende, in particolare quelle del settore dell'ospitalità e della ristorazione. Allarme di Confesercenti Campania, 11.000 attività a rischio chiusura e 40.000 lavoratori che potrebbero rimanere disoccupati. Allarme rilanciato anche dal rappresentante di Mia Campania, da Benevento, che dice che in molti non resisteranno all'autunno. Costi insostenibili, il caro Energia mette in ginocchio le aziende campane. Gli aumenti delle bollette producono risultati disastrosi. Oltre 11.000 attività sono a rischio chiusura, secondo l'osservatorio di Confesercenti Campania, con particolare riguardo per le piccole e medie imprese di turismo e terziario. Tenendo conto dei nuovi rincari attesi per ottobre, commenta il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, in Campania ci sono 11.300 attività a rischio chiusura. Entro dicembre, 3.000 dei 16.000 ristoranti, 6.000 bar sui 30.000 esistenti, 300 hotel su 1.600 e 2.000 bed and breakfast su 10.000. Un dramma assoluto che coinvolgerebbe per di più oltre 40.000 lavoratori. Numeri drammatici anche per il rappresentante di Mia Campania, Mario Carfora, che da Benevento lancia l'allarme. Ci troviamo di fronte al tripolo dei costi in generale, più o meno con gli stessi ricavi. E non ci dimentichiamo che comunque veniamo fuori da due anni di pandemia, dove il settore della ristorazione e dell'ospedalità ha avuto perdite intorno al 60-70%. Non c'è possibilità in questo momento, senza un intervento concreto del Governo, di poter andare avanti adesso che inizierà l'autunno, anche perché noi a Benevento, comunque nel periodo tornale e invernale, il calo del lavoro è evidente. Nella migliore dell'ipotesi, molti ristoranti penseranno di essere aperti solo il weekend. Quindi andiamo incontro a delle città praticamente da lunedì al giovedì, deserte, vuote, chiuse dopo le 8 di sere. Ancora contrapposizioni tra il comune di Avellino e la regione Campania. Festa attacca De Luca su PICS e Fenestrelle. Il Governatore risponde con l'apertura dell'autostazione dopo 35 anni. Interviene l'elegato regionale Todisco. Avellino deve ripartire di tutto a bisogno, fuorché che di scontri politici. Uno scontro, quello tra il comune di Avellino e la regione Campania, che non accenna a placarsi. Festa senza mezzi termini. Ieri ha attaccato il Governatore De Luca. Ci sta boicottando su PICS e Fenestrelle. Palazzo Santa Lucia risponde con l'apertura giorni dell'autostazione dopo 35 anni. Per il delegato regionale all'alta capacità Napoli-Bari, un segnale di attenzione verso le aree interne. Una svolta storica. Per il trasporto, ma anche per ciò che significherà in termini di servizi amministrativi e commerciali. La città di Avellino deve essere pronta a ridefinirsi intorno a questa nuova centralità. In termini di investimenti, io sono un convinto sostenitore che il nuovo Tribunale vada individuato nelle aree attorno alla nuova autostazione. Quindi per noi è una grande opportunità. Per Todisco è ora di stoppare queste polemiche politiche. La città deve guardare al futuro e non può farlo in un clima di contrapposizione. Le polemiche politiche non possono, non devono e sicuramente non incidono su procedure amministrative. Sarebbe totalmente folle. Credo che la città di Avellino abbia soltanto da guadagnare rispetto a un'interlocuzione che sia serena, che sia nei canoni della normalità, della tranquillità. Perché la città di Avellino ha bisogno di ridefinirsi, di costruire, di progettare. E ha bisogno di un'interlocuzione con la regione che sia di questo tipo qui. È polemica a Salerno dopo la revoca da parte del Comune delle concessioni per la gestione delle spiagge libere. L'Anva non ci sta, passa al contrattacco. Decisione che non condividiamo. Pronti i ricorsi al TAR. Sono pronti a ricorrere al TAR gli operatori a cui il Comune di Salerno ha revocato l'affidamento per la gestione dei servizi balneari sulle spiagge libere cittadine. La decisione dell'ente è scaturita da alcune irregolarità che erano emerse durante i controlli effettuati nelle scorse settimane da Polizia Locale e Guardia di Finanza. Una scelta non condivisa da l'Anva che ha puntato il dito contro la politica cittadina. Non è notificata nessuna revoca delle concessioni che dovrà avvenire, penso, in questi giorni attraverso i messi notificatori. Revoca che noi riteniamo ingiusta anche perché si contesta il stesso reato sia penale che amministrativo alle cinque postazioni. Gli operatori quindi sono pronti ad avviare una battaglia legale per provare a far valere le proprie ragioni, ma anche per tutelare gli investimenti che erano stati messi in campo per garantire un servizio adeguato ai bagnanti salernitani. Io non penso che cinque operatori economici mettevano in gioco migliaia di euro creando lo stesso reato e la stessa questione amministrativa. Probabilmente c'è il problema, come già l'avevamo sottoposto quando ci furono il sequestro delle pedane, di poca chiarezza tra gli uffici e questo ha portato oggi a questo provvedimento che ripeto riteniamo ingiusto e che gli operatori andranno a ricorrere al TAR. Scuole da abbattere e ricostruire o da ristrutturare al centro dell'agenda del Comune di Benevento che con l'avvicinarsi della riapertura degli istituti sta cercando di trovare soluzioni per limitare i disagi. Se da un lato l'amministrazione comunale di Benevento è al lavoro per cercare di risparmiare energia termica ed elettrica e scuole uffici pubblici per via dei rincari, dall'altro è al lavoro per organizzare al meglio i prossimi mesi per l'avvio dei lavori di abbattimento e ricostruzione o di ristrutturazione di numerosi edifici scolastici, anche grazie ai fondi del PNRR. Tra un mese al via le opere per alcune delle scuole interessate. Credo che di qui entro un mese partiranno i lavori per la costruzione, per l'adeguamento della scuola Pacevecchia. Si sta svolgendo in questi giorni la gara per i lavori di adeguamento e la pietà, anche qui contiamo nel mese di ottobre di far partire i lavori. Si sta ridicendo il contratto per far partire i lavori della scuola Bosco Lucarelli. A Federico Torre e la Nicola Sala, come sapete siamo destinatari di un finanziamento di 14 milioni e mezzo del PNRR. Appena ci arriverà, credo nel giro di qualche mese, questo studio di fattibilità, procederemo all'affidamento della progettazione esecutiva. Assessorato ai lavori pubblici al lavoro anche per il cronoprogramma per la messa in sicurezza del Ponte San Nicola all'ingresso della città al centro di lavori, che partiranno tra qualche giorno e che vedranno il rifacimento dei marciapiedi. Successivamente anche la ristrutturazione del ponte stesso. Elimineremo quegli avvallamenti strutturali che non riguardano il ponte in sé per sé, ma sono posti subito dopo il ponte, sempre in direzione Capodimonte, in attesa poi, questa è la novità, di bandire a brevi i lavori per la manutenzione del ponte San Nicola. Dopo le polemiche ambientaliste, 30 tartarughe caretta caretta sono nate sulla spiaggia di Castel Volturno a pochi passi dal Java Beach Party. Per i volontari nidi e concerti possono coesistere se c'è rispetto e attenzione. Concerti sulla spiaggia e nidi di caretta caretta possono coesistere, l'importante è che vi siano attenzione e rispetto reciproci. Parola del presidente dell'Associazione Domizia, Vincenzo Ammaliato. I volontari hanno assistito infatti nella loro emozionante corsa verso il mare 30 piccoli esemplari che sono emersi dalla sabbia, proprio a un'ora dal termine del Java Beach Party, tenutosi a Castel Volturno venerdì sera sulla spiaggia del Lido Beach Boys, in località Villaggio del Sole, appena 500 metri dopo il Lido Fiore Flava Beach, dove oltre 20.000 spettatori hanno assistito all'evento. Le piccole testugini si sono lanciate verso il mare sotto l'occhio vigile dei volontari dell'Associazione Domizia, che curano i siti di tartaruga sul litorale casertano e napoletano con l'empa Salerno per conto del progetto caretta in vista della stazione zoologica Anton Dorn. I piccoli hanno trovato facilmente il mare, anche perché il posto in cui sono nati è poco urbanizzato. Ora aspetteremo 48 ore per eventuali altre schiuse, ha spiegato il presidente Ammaliato, e nel caso non ve ne fossero scaveremo per vedere se vi sono altre uova. Al momento a Castelvolturno sono nate oltre 130 tartarughe in tre siti, restano ancora altri due nidi. Era questo il nostro ultimo servizio, il Tg termina qui, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo e ai programmi di 8 Channel. a Castelvolturno sono nate oltre 130 tartarughe in tre siti, restate in tre siti, restate in tre siti, restate in tre siti, restate in tre siti. a Castelvolturno sono nate oltre 130 tartarughe in tre siti, restate 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 in tre siti. a Castelvolturno sono nate oltre 130 tartarughe in tre siti, restate in tre siti, restate in tre siti, restate in tre siti, restate in tre siti. a Castelvolturno sono nate oltre 130 tartarughe in tre siti, restate 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 in